It's happening to me I found a way to go Lorenzo? Smatria? Volevo presentarti questa ragazza, lavora più... vicino a razoterra nella boutique da mezzodonna. Si chiama Astrid. Nella hall. Calzone, parabutto, delinquente! Signora... Venimi, amore, vieni, amore. No, no, ve lo porti via. Amore! Signora, com'è abbronzato? Giaffa! Giaffa! Giaffa Guloschi! No, no, no! Mi stacca il fileo! Mi stacca il fileo! Mi stacca il fileo! Mi stacca il fileo! E' un po' di indecenza! Vi guardano tutti, date scatta, lo fate schifo!